action dal vostro moriscripto welcome back a tutti quanti ragazzi sto molto meglio oggi ho dormito veramente bene beviamo l'acqua che purifica anche se quelle costa ricca invece vi purga anyway allora parliamo un po del mondo cripto mi avete chiesto in tanti di parlare del mondo cripto vi dico cosa voglio fare io sono un folle lo so però if you don't take risk you don't get nothing se non prendi il rischio e non ricevi niente allora guardate bitcoin ha fatto quasi un meno 7 per cento guardiamolo qua scusate e vigo quasi 60 per cento win no reason senza nessun tipo di ragioni torniamo un po più giù così lo vedete meglio vedete un po guardate un po è il pato che toma na sta riprendendo pian piano il bitcoin era quasi ha toccato anche quale 33 mila sterline è sceso 30 mila ottimo che sia chiaro guardate che quello che vi fa fare i soldi nelle criptovalute è la volatilità quindi quando accade è fantastico cioè chi ha comprato qui e mette lo stop loss non rischi poi la liquidà per ricomprare o meno 7 per cento ok ma guardiamolo così in dollari aveva toccato massimo 45 poi era risceso 44 e 5 è sceso di 40 mila e 7 fantastico ottima posizione ovviamente come vi ho sempre detto il birici io non mi fido vi ricordo che basta il nulla ok oggi quanto ne abbiamo il 17 se quei criminali fanno partire la guerra questo fa o meno 30 per cento non smetterò mai di dirlo la guerra il bitcoin è collegato alla guerra ok se dovesse accadere questo va in verticale le alternative coin chiamiamole più shit coin poi il rischio di scendono a zero però vi dico cosa voglio fare ok c'è questa moneta che a me ha sempre fatto fare i soldi però per dire l'ho comprata bene guardate lo storico la media era sempre 5 l'altro giorno comprata 5 26 vedete due giorni fa 5 26 eppure è scesa 4 95 sto pensando di fare non in con 5 mila sterline se lo faccio ovviamente documento il tutto per farmi quei 500 mila euro perché cosa fa queste monete solito siccome per riattirare la tensione gli stessi che la possiedono fanno questi pump artificiali per riattirare la tensione però se mi fa un pump e io rivendo a 6 mi faccio 500 800 euro in un così in un botto con 5 mila sterline perché come vi ho spiegato i soldi veri nel 3 si fanno con la tecnica del del cecchino sta lì 8 ore con un fucile da mira prende la mira e apre il fuoco solo quando è sicuro di beccare il bersaglio la stessa cosa si fa nel trading è inutile rischiare perché lo stop loss vi farà perdere sempre tanti soldi lo so che su 10 operazioni l'importante che le operazioni andate bene deve essere superiori a quelle a quelle andate male però è meglio in questo tipo di mercato malato tenere l'equità nelle change e utilizzarla soltanto quando fa un meno 10 per cento adesso ieri ha resistito bene vi dico la verità forve come moneta però questa non mi pagano per dirlo può dare è una shit coin e non è nessun progetto però se analizziamo il pattern ricordate lateralizza pump lateralizza pump guardate un po qua pensate qui è comprato a a quasi 5 sterline e ha toccato i 6 così ha fatto un euro un pound in più ma a volte ne fa due tre in più fa delle cose incredibili questa moneta quindi sto pensando di entrare qua e rivendo velocemente o aspetto che risalga a che ne so a 570 se rifaccio un bel pump e faccio un sacco di soldi con maiale oppure mi accontento vendi e pentiti per l'altro giorno ero vi dico la verità ero impegnato potevo vendere qua 573 ho comprato 526 ho comprato 118 e poi ho cambiato l'ho messo vendita a 570 vedete perché è molto meglio mordi e fuggi mordi e fuggi ci sono delle operazioni che vi fanno fare 100 200 euro alcune 50 30 euro ma anche se sono 15 euro voi prendetele mettetele a parte intanto vanno a crescere il vostro portafoglio non siate ingordi che è sempre l'ingordigia è sempre quella cosa che mi ha fatto fare sempre un sacco di errori non aspettatevi sempre mega pump ok poi per il bitcoin è sempre un buon prezzo se tu guardi la picture a lungo termine compro qua e aspetto un anno il problema è cosa accadrà nel mondo nei prossimi mesi come avete potuto notare il mondo non sta andando bene vi è quella cosa in giro sapete quella cosa la e cosa accadrà nei prossimi mesi che se vi metti in giro lo sa cosa accadrà però qui non si può dire stiamo zitti però c'è anche la guerra se questi disgraziati fanno partire la guerra salta internet si blocca il sistema bancario scoppia un casino incredibile sto parlando a livello europeo ok quindi preghiamo in dio ovviamente che non accada la guerra e che rincominci vi dico la verità in questi giorni stavo notando un pattern perché alcune notizie la russia ha ritirato alcuni carri armati no fantastico e stavano cominciando a lateralizzare bene a salire però le solite notizie no la russia non è vero che sta ritirando tac però ovviamente questi 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 down qui sono fatti artificialmente ragazzi loro obiettivo è la manipolazione perché comunque tu ricompri qua e poi ti rifà di nuovo 45.000 lo ha sempre fatto quindi ricordati che la volatilità il bello della volatilità è questo che ti permette di guadagnare un sacco di soldi perché i soldi veri farà ridere ma si fanno nel bearish market cioè quando il mercato giù e fa una fase di accumulo che compri è un po' come e io mi ricordo questo amico che faceva la spesa all'anno dell'abbigliamento una volta all'anno solo quando c'erano i saldi e lì faceva la scorta di tutto dovete vedere il trading un po' come quando ci sono i saldi vai la fai la scorta non fai trading hai pagato un prezzo bassissimo e poi rivendi quando in alto quindi vediamo ad a perché io sono uno che sostiene molto ad anche se è noiosissima da lo so lo so lo capisco che anche voi siete incazzati però guardate questo prezzo qua 75 centesimi di sterline guardate un po' questo ha un potenziale io qui un accumulo anche mettere anche 5.000 qua è altissimo solo che non mi da le soddisfazioni di forve questa questa money me ne fa fare 200 euro mentre forve me ne fa fare 500 ok anyway ragazzi spero che questo video vi sia piaciuto non vi voglio annoiare oltre vi ricordo che all'interno di questo video trovate un link meraviglioso per chi desidera imparare il mondo delle criptovalute a volte ero a cena l'altro giorno con un'amica mi fa amore ma non ci capisco niente ma è fantastico perché il corso è fatto con le persone come te come aprire un account come fare prime transazioni capire la volatilità i progetti interessanti e via il corso vi porta step by step a conoscere il mondo del trading però ricordatevi che il migliore trader siete voi è un po' come aver imparato avete fatto la scuola guida noi siamo una sorta di scuola guida ti abbiamo insegnato come funziona il trading ma poi siete voi che potete diventare un autista fare il tassista o diventare dei piloti di formula 1 dipende da quanto tempo ci dedicherete dentro al trading ok per diventare un bravo trader vi dico che le qualità sono semplici ma una tra le tante non avere emozioni e l'altro è avere pazienza ma essere pronti a fare un sacco di errori perché saranno gli errori quindi perdere soldi che vi faranno diventare dei grandi trader difidate di chi vi dice che è un bravo trader senza mai aver perso soldi ok se non siete iscritti ancora canale iscrivetevi attivate la campanella ragazzi e ditemi voi cosa ne pensate sul bitcoin su quello che potrebbe accadere prossimi giorni e morissa vi manda un forte abbraccio bye bye